Questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del pianeta e abbiamo avuto paura. Ma abbiamo reagito e costruito una nuova solidarietà. La disuguaglianza non è né tollerabile né accettabile. Il dovere delle istituzioni europee è di difendere i più deboli. È la nostra sfida, quella di un mondo nuovo che rispetta le persone, la natura. Che crede in una economia nuova basata non sul profitto di pochi, ma sul benessere di tutti. Ho avuto una vita bella, decisamente molto bella, e finirla a 65 anni è davvero troppo presto. David Sassoli, patron di promozione 2022-2023 al Collegio d'Europe.